Sono oltre 3.000 gli alloggi popolari in provincia di Arezzo, di cui circa 1.100 nel solo comune della città capoluogo. Questa è la fotografia dell'edilizia popolare, proprio in un momento in cui il boom di richiesta a causa dell'emergenza abitativa degli ultimi anni non accenna a fermarsi. Ecco dunque che la società che gestisce l'edilizia pubblica Rizzocasa, di cui sono soci i comuni della provincia, si ritrova con una vera e propria patata bollente tra sempre più impellenti esigenze di manutenzione di cui hanno bisogno molti alloggi. C'è una gradatoria che è vigente e viene aggiornata. E la gradatoria a Arezzo sono circa poco meno di 1.000, in tutta la provincia sono un po' più di 2.700. E principalmente oltre a Arezzo sono il Val d'Arno, la zona più delicata. È un po' quella retina, ma il Val d'Arno e soprattutto Montevarchisi, San Giovanni. Alla fine del millennio sostanzialmente le gradatorie si erano scemate, sembravano in via di esaurimento. Poi invece la cosa ha cominciato a ricrescere e ha raggiunto i livelli significativi da partire dal 2008, 2009, 2010 e anche attualmente. Il turnover ce l'abbiamo proprio annuale, nel senso perché ci serve anche come elemento di riflessione, come dato di bilancio, che è anche un dato numerico che riguarda le famiglie, le famiglie che entrano dentro, che sono da 100 a 120. Di queste del capoluogo sono una quarantina, 45-50, poi il dato da un anno e l'altro oscilla. L'anno scorso, l'anno appena trascorso, sono stati 41 da Arezzo su 110 di tutta la provincia. Però l'equilibrio è questo, in grosso modo sta nei limiti percentuali del patrimonio edilizio che in ogni territorio c'è. Ovviamente più o meno hanno la stessa data, soprattutto quello più consistente, perché il patrimonio nato negli stessi anni, anche i nuclei che sono stati inseriti hanno un po' la stessa storia. Alcuni edifici di edilizia popolare hanno problemi piuttosto seri. Tra le situazioni più difficili ci sono quelle di tortaie via Malpighi, allagamenti nei garage, infiltrazioni, muffa nei muri, situazioni dovute spesso a una qualità non eccelsa nel modo in cui sono stati realizzati e in alcuni casi anche alle abitudini di vita degli inquilini. E proprio in via Malpighi c'è anche il problema dell'Eternit da rimuovere. Lo dico con estrema amministrazione, noi abbiamo 300-350 edifici su cui sono collocati tutti questi alloggi. La stragrande maggioranza di questi edifici sono edifici costruiti con tecnologie povere e le tecnologie povere denunciano oggettivamente problemi gravi di manutenzione. Sarebbe necessario un piano straordinario per la manutenzione che purtroppo non c'è. Noi abbiamo partecipato al riparto delle risorse che lo Stato ha messo a disposizione, fra l'altro anticipando anche le annualità future del piano casa nazionale previsto da legge 80, ma noi facciamo interventi per 400 mila euro di manutenzione straordinaria. Tra l'altro tre interventi su cinque, quanti ci sono stati possibili finanziari, sono su Arezzo, sul capologo, però sono come dire una goccia nel mare. Questo è un patrimonio che ha quelle caratteristiche che ha, di cui occorrerebbe tener conto. Io mi auguro che in tempi diversi di finanza pubblica sia proprio possibile pensare a un piano straordinario. Ora stiamo utilizzando tutte le forme, dal risparmio energetico che consente di recuperare dei contributi sulla fiscalità e così via, ma sono come dire delle quantità così limitate che rispettano società che destina un terzo del proprio bilancio, dei propri ricavi, dei ricavi dai canoni alla manutenzione. Più di tanto siamo, come dire, a raschiare il barile. Se non c'è questo piano straordinario sostenuto dalla finanza pubblica, penso difficilmente noi cambiamo la situazione. Per cambiare la situazione ci vogliono investimenti straordinari. Così come se il problema sono quei numeri che noi abbiamo, quei numeri che sono in Italia, delle migliaia di domande in questa provincia, in Italia sono 1.900.000, stimate da Federcasa. Se noi vogliamo risolverlo, occorre anche lì pensare a delle politiche straordinarie. Se è stato in un tempo lontano, ma non troppo lontano, alla fine appunto del passato millennio, ritenuto che non ci fosse più bisogno di risorse, se la fiscalità dedicata all'edilizia residenziale pubblica, Gescal, è stata cancellata perché così si pensava, probabilmente nel momento che la questione si pone con tanta forza, con un segno tanto evidente, non è nemmeno scandaloso che si pensi a trovare una risorsa dedicata che possa risolvere e tempestivamente, perché il dramma vero è anche la tempestività. e la tempestività oggi la potremmo trovare nel recupero e in un finanziamento straordinario che consente di recuperare un patrimonio edilizio invenduto, non terminato, di cui anche il nostro territorio è ricco. Nel patrimonio più usurato facciamo interventi consistenti con recuperi che in media vanno anche sopra le 10.000 euro appartamento e dico 10.000 euro per significare un numero straordinario il rapporto con quanto è il canone medio del nostro affitto che raggiunge poco sopra i 1.000 euro l'anno, insomma sono 100 euro al mese, medi circa, quindi dà l'idea che per recuperare questo investimento ci vogliono 10-15 anni. Però è necessario e è un lavoro che un po' con l'aiuto di alcuni contributi che in questo quinquennio ci sono stati da parte della regione toscana per il recupero degli alloggi sfitti. Noi assicuriamo con quella parte di contributo e anche con le risorse di bilancio il recupero totale. Di fatto in questo territorio, in questo lode, in questa provincia non ci sono alloggi sfitti, ci sono ma sono in un circuito di recupero quello strettamente necessario all'analisi dei lavori, all'affidamento dei lavori e al recupero. L'affidamento dei lavori per cui utilizziamo a rotazione le imprese del territorio dopo un'esperienza passata non positiva in cui l'affidamento per intero del contratto d'appalto aveva prestato il fianco a critiche soprattutto da parte degli utenti sulla qualità dei lavori e ci ha portato a fare una riflessione e a sperimentare anche delle soluzioni che danno risultati sicuramente molto migliori. Via Amalpighi, anche a seguito di segnalazioni, di proteste che ci sono state per quella situazione, è stata oggetto di uno studio che è previsto da normativa sul recupero e lo smaltimento dell'amianto e è stata determinata una procedura di intervento che è relativa al tetto e al modo con cui si fanno i ripristini di quegli alloggi perché alcuni alloggi anche all'interno hanno la presenza dell'amianto alcuni nel pavimento, la maggior parte ormai sono stati modificati e superati e c'è una procedura qui approvata dall'azienda a cui ci atteniamo. Per quanto riguarda il tetto, il tetto ha avuto le manutenzioni necessarie e non siamo in presenza di una situazione di sfibramento della copertura anche se noi abbiamo un progetto e siamo in condizioni di poterlo realizzare al momento in cui si presenteranno la disponibilità di risorse finanziarie. Da parte dei comuni? A volte i finanziamenti possono essere diretti anche ai gestori, in molti casi lo sono stati, la proprietà rimane sempre dei comuni. Come dico ai soci proprietari, se vogliono intervenire con solucitudine e urgenza loro sanno come fare, hanno un bilancio, hanno delle risorse ma fra l'altro, questo appare probabilmente anche come una provocazione ma non lo è, noi con i comuni soci abbiamo un rapporto anche nella gestione più sociale degli utenti, cioè nel senso ci facciamo carico per tanto tempo di sostenere l'amorosità, non solo, il canone che riconosciamo a comuni per la gestione del loro patrimonio, siamo rimasti in Toscana l'unica azienda che lo riconosciamo ai comuni, è vero che i comuni lo riutilizzano per le esigenze sociali, sono circa 100 euro appartamento, quindi sono 320, 330 mila, 340 mila euro complessivamente, che vanno come dire, anche quelli a contenere una situazione di difficoltà di quei nuclei che sono seguiti dai servizi sociali e comuni che fra l'altro loro stessi individuano, segnalano e assistono, verificano che abbiano tutte le condizioni. L'emergenza a casa nel territorio retino è scoppiata come un po' a livello anche nazionale, diciamo negli anni della crisi, sono tantissime le domande delle famiglie, il rapporto più che altro rispetto a poi anche al ricambio degli alloggi è piuttosto esiguo, cioè si riesce ad accontentare una famiglia su dieci che fa domanda. Sì, purtroppo questa è una situazione generale in Toscana, anzi Arezzo è una delle situazioni che non sta peggio, mettiamola così. Noi abbiamo in Toscana circa 25 mila persone che sono in lista di attesa per quanto riguarda la possibilità di avere una casa, abbiamo una dotazione di circa 49.300 alloggi, ce ne sono 1.300 in costruzione che richiedono un impegno nei prossimi 3-4 anni di circa 140 milioni e su questo fronte la regione è impegnata a reperire le risorse e garantire le risorse perché questi interventi vanno a compimento. In più il nostro impegno è relativo anche al sostegno di chi magari una casa in affitto ce l'ha e è in difficoltà per poter far fronte, causa a momenti anche di crisi come quelli che stiamo attraversando e al pagamento dell'affitto. Quindi abbiamo nello scorso anno erogato circa 8 milioni per il contributo affitti, abbiamo investito più di 3 milioni per quanto riguarda invece il fondo di intervento per l'amorosità incolpevole, quindi per evitare proprio gli sfratti. A fine anno siamo riusciti ad impegnare circa 40 milioni di euro per quanto riguarda gli investimenti, quindi per alimentare i cantieri che sono in fase di esecuzione, ma anche una misura che era stata oggetto di un bando a fine 2013, inizio del 2014, per misure sperimentali, vale a dire autocostruzione, autorecupero, co-housing sociale. Abbiamo su quel versante impegnato 14 milioni e mezzo, ci sono interventi importanti anche in provincia di Arezzo, nel comune di Terranova, nel comune di Chiusi della Verna, nel comune di Arezzo. Quindi, come possiamo vedere, per noi il diritto alla casa è una priorità e stiamo cercando di alimentare la soluzione per questo diritto. Certo, siamo in una fase di contrazione delle risorse pubbliche, per quanto riguarda anche gli investimenti, probabilmente occorrerebbe una strategia di politica nazionale che facesse del diritto alla casa una delle principali azioni da poter promuovere magari nei prossimi anni, mettendo anche a disposizione risorse e dico perché no, andando eventualmente anche a reperirle attraverso magari una tassa di scopo. Nel frattempo, come ho detto, cerchiamo comunque di garantire tutti i flussi finanziari per poter portare a realizzazione i cantieri che sono in fase di esecuzione e per cercare di attenuare l'emoragia dal punto di vista della perdita dell'abitazione attraverso il fondo affitti e il fondo per l'amorosità incolpevole. In ultimo vorrei anche ricordare che nei tre anni che ci stanno alle spalle circa 5.000 giovani, attraverso un impegno di quasi 40 milioni che la Regione ha fatto sul fondo giovane sì, hanno avuto la possibilità di avere un contributo per la loro autonomia abitativa.